Fermava donne sempre sole, chiedeva informazioni di solito su una palestra o dove poter fare arti marziali e poi con insistenza metteva il suo smartphone con immagini di film hard davanti ai loro occhi invitandoli in alcuni casi a replicare quanto accadeva nel video. Adesso il molestatore seriale da settimane ricercato dalle forze dell'ordine è stato identificato e denunciato dai carabinieri di San Giovanni Valdarno per molestie a sfondo sessuale, si tratta di un trentenne valdarnese. In tutto set gli episodi che sono stati documentati dai militari in diverse località del Valdarno a Aretino. Le indagini erano infatti partite a metà giugno da una segnalazione registrata a Montevarchi in piazza Garibaldi. Qui una donna era stata approcciata dal trentenne che poi velocemente si era dileguato prima che arrivasse la pattuglia del radiomobile. Da lì i militari avevano ascoltato alcuni testimoni ed era stata anche diramata la descrizione dell'uomo. Erano così emersi ulteriori episodi avvenuti pure nei mesi precedenti. Alla fine i carabinieri sono risaliti al sospettato ritenuto responsabile dei numerose molestie e in un caso anche di minaccia, sempre verso donne e sole, in zone come il parco di cittadini, i piedi del centro o centri commerciali. I militari hanno anche chiesto alla procura un decreto di perquisizione domiciliare durante la quale è stato sequestrato lo smartphone dell'indagato sul quale verranno svolti tutti gli accertamenti del caso.